In collaborazione con Cetila, Marco, Hosis Technology, GFN e Gibellato. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Omoboni al consueto appuntamento settimanale con Sportador.tv, la multipiattaforma tv e web, tutta dedicata al turismo e allo sport. Siamo in onda tutto l'anno con vari format televisivi e vestibili invernali che parlano di mare e di montagna sulle migliori tv private italiane, diverse tv nazionali, alcune tv internazionali e poi anche sul web, sul sito sport.tv, oltre che con Smart TV con il vostro computer e anche con il telefonino. Quindi una multipiattaforma globale e mondiale. Questa puntata è dedicata a Fem Power Boat, il magazine televisivo della Federazione Italiana Motonautica. La Federazione Italiana Motonautica è una delle poche federazioni italiane sportive riconosciute dal CONI che fa vedere in tutte le piattaforme televisive e social le gare delle proprie discipline che sono tante. Questa puntata è tutta dedicata alle moto d'acqua. Siamo ad Anzio per l'ultima prova del campionato italiano stagione 2018. Questa che vedete è la categoria, la nuova Coppa Italia Spark che si è corsa con moto d'acqua a Ranabod, l'ostituto della categoria Spark, una tappa unica solo qui a Anzio, gara conclusiva i primi di settembre al via 10 piloti dai 14 ai 18 anni di età che si sono sfidati per vincere questa nuova categoria. Le moto sono messe a disposizione dalla Federazione Italiana che ne ha comprate una decina, distribuita fra le varie società e al via giovani che si avvicinano a questa disciplina sportiva. 14-18 anni di età l'anno prossimo, e questo è un grande successo che ha avuto, è un riconoscimento importante dal CONI, che l'anno prossimo l'età scende a 12 anni. Quindi i ragazzi giovani che fino a quest'anno dovranno aspettare i 14 anni di età per gareggiare nelle moto d'acqua e nelle varie discipline, dall'anno prossimo, possono chi ha 12 anni già avvicinarsi allo sport della moto nautica, le moto d'acqua, ma le altre anime della Federazione che sono tantissime come il circuito, l'Endurance, l'Officiolla, la Red Comandata, il Diporto, tante discipline che noi di Finn Powerboot ogni settimana raccontiamo. Questa importante anima che oltre all'attività sportiva che vedete in questo momento è legata anche a tutto al movimento nautico delle barche, delle moto che vengono vendute nel nostro bellissimo mare, 8.000 km di costa. Questa nuova categoria Coppa Italia Spark, la vittoria è andata al fiulano di Palmanova, Iacomo Tomasini, portacolori del Radical Riders. Tomasini ha regolato il napoletano Davide Pontecoro della Jet Revolution e il veneto Leonardo Fabris della Canarin Crazy Gang, secondi e terzi classificati. Quindi vedete il successo, l'esultazione importante del friulano Tomasini che vince questa nuova categoria con la moto, viene estratta a sorte, viene appunto proprio divisa. Sono moto di serie, lo ricordiamo, importanti prodotti dal colosso americano di moto d'acqua Sidhu che è uno dei competitor più importanti nel mondo delle moto. Questa di Anzio era l'ultima prova del campionato italiano 2018, la stagione è iniziata a Baccoli in campagna, poi a Carle, poi di seguito a Brindisi e a Milano, a Brindisi il primo weekend di luglio, a Milano a fine luglio e poi questa di Anzio, importante la stagione 2018, l'ultima gara importante. Questa che vedete è la categoria della ski F3, qui ha vinto Andrea Bergamo, portacolori del Radical Ride, quindi doppietta, ha vinto nella Sparko Tomasini e anche nella F3 con Andrea Bergamo. Secondo è arrivato il forlivese Matteo Benini e terzo il romano Stefano Antonelli. Ricordiamo le moto, sono le stand-up, la moto ski che è questa che si guida in piedi e la runabout, la moto biposto, quella che si guida comodamente seduti. Questa della ski, gara 1 e gara 2, sommatoria dei punti ottenuti, quindi la vittoria qui è andata a Bergamo. Bergamo che poi vince anche il titolo italiano con 296 punti davanti a Benini, 211. Terzo Antonelli, praticamente qui erano 76 piloti al via, qualcuno va già rinunciato, ormai in alcune categorie le classifiche erano già chiaramente, i risultati già confezionati e prestabiliti nelle prime gare, quindi c'è stato un punteggio aggiuntivo per chi ha fatto tutte le gare, un premio speciale per questi importanti atleti, normalmente sono un centinaio di atleti in queste bellissime località, e già si parla di un grande 2019, la stagione è quasi al termine. Per le moto d'acqua questa era l'ultima prova, ma c'è ancora le gare di circuito, c'è le gare di Cremona, c'è la gara di Boretto, Pore, Cupro della gara di Maggio, l'Offshore sta vivendo il suo grande finale di stagione con tre importanti eventi, il mondiale di Chioggia, il mondiale di Ischia e la 100 miglia di Como, tutti gli argomenti delle prossime settimane di Finn Powerboat, una stagione importante quella della federazione, che lo ricordiamo è una delle federazioni non olimpiche, è dato più all'ore allo sport italiano, ogni anno mediamente il 70-80% dei titoli vinti a livello mondiale sono di piloti azzurri, sono tanti piloti stranieri che vengono a gareggiare in Italia per l'alto contenuto tecnico delle gare italiane, soprattutto per la grande ed efficiente organizzazione della federazione, infatti in Italia mediamente il 50-60% delle gare a livello mondiale vengono appunto disputate qui in Italia per l'efficiente organizzazione di questa importante federazione che dà spazio a tutte le anime di alle varie discipline motoristiche legate all'acqua e questo è il campionato italiano, qui vedete proprio il percorso, bella questa inquadratura dall'alto, le immagini sono di Lorenzo Galanti e del suo team, il montaggio del nostro Marco Roma, il percorso vi ricordo è a slalom, apparentemente boa bianca virata a sinistra, boa rossa virata a destra e poi chiaramente quello che avete visto era un pilota, ci sono due campi uguali vicini, uno può scegliere a destra e a destra per evitare le onde dell'atleta che precede il proprio competitor e quindi può scegliere e poi i due campi a slalom si riuniscono e si ripartono. Bandiera a scacchi per questa categoria, abbiamo detto quindi vittoria nella F3, la vittoria va ad Andrea Bergamo, un atleta che da tanti anni segue il mondo delle moto d'acqua, la differenza abbiamo detto della moto, la stand-up che è la categoria ski o la nabal, sono due tipi di moto e poi ci sono le varie categorie in base alla motorizzazione, la F3 sono un moto stock di serie, la F2 sono invece moto leggermente modificate e poi invece la F1, è modificato il motore, la turbina e la compressione, deve essere rispettato il peso e la cilindrata. Da un'altra categoria, ora siamo passati come vedete alla runabout, altra categoria importante, qui la vittoria in questa categoria, è andata il napoletano Gaetano Costagliola dell'associazione sportiva Fly Motor Show, secondo è arrivato il leader della classifica generale, l'agrigentino Stefano Castronovo e terzo classificato è arrivato Fabio Messere Romano di Albano Laziale. Vittoria quindi parziale di giornata per Gaetano Costagliola che purtroppo, o meglio arriva a secondo perché invece la vittoria va a Stefano Castronovo con 229 punti, Costagliola a secondo con 196 punti e Mattias Giraldo arriva in terza posizione, quindi vittoria di giornata per Stefano, per Gaetano Costagliola, scusate Castronovo invece è il campione italiano di questa categoria, runabout F2, ecco qui l'esultazione del vincitore, la vittoria parziale, quindi va a Costagliola ma con il suo piazzamento secondo classificato, ecco qui vedete l'abbraccio fra i vari atleti, la vittoria è andata al titolo italiano appunto a Stefano Castronovo. Questa è gara 2, siamo nel weekend di settembre ad Anzio che è una bellissima località, un premio va all'organizzazione che è del Cas Sub Roma 2000 di Fabio Bertolacci che è un ex campione di offshore o del delegato regionale del Lazio che con la sua società ha organizzato questo importante evento assieme alla società Aqua Scooter, tappa conclusiva della stagione 2018 per questa importante categoria e proprio qui grazie al grande evento la federazione ha organizzato, l'abbiamo visto in apertura di puntata, questa categoria giovanile per i giovani, 14-18 anni la Coppa Italia Spark, quindi in questo importante evento due giorni di grandi gare perché come abbiamo visto sono tante categorie, sono tre le motorizzazioni per moto, ci sono due tipi di moto, siamo già a sei categorie, poi c'è il freestyle, c'è l'endros, c'è anche la Coppa Italia Giovane, quindi un evento che in due giorni veramente richiama tanto pubblico ed anzi sicuramente una delle più importanti località turistiche. Poi importante questa Coppa Italia Spark, tanti giovani si sono avvicinati e l'invito va anche agli amici di Finn Powerboat che numerosi ci seguono in tutte le varie piattaforme, sui social, sul nostro sito sportor.it, sul sito della federazione fincone.it oppure sulle tante televisioni, ora San Minonda anche all'estero, in Croazia, in Slovenia, in Romania, in lingua italiana e proprio perché tanti atleti da questi paesi e non solo vengono a gareggiare in Italia e ci seguono sempre più numerosi, vi ricordo sportor.tv con il suo magazine Finn Powerboat in onda sulle migliori tv private italiane, oltre 100 tv locali di tutta Italia, tre tv nazionali e poi anche nei paesi all'estero. Quindi importante evento, importante sforzo della federazione per dare sempre più visibilità alle proprie discipline e poi un grande spiegamento di mezzi televisivi, ben sei cameraman presenti a questa gara, due con il drone come vedete, due con le immagini da terra e uno per aiutare i giudici di gara oltre al regista. Quindi una produzione importante che fa onore allo sport italiano, fa onore ai piloti di moto d'acqua e fa onore alla federazione italiana motonatica e come abbiamo detto con il suo magazine Finn Powerboat dà visibilità a tutte le discipline. Ora qui, ultimo giro, bandiera bianca, vediamo il giudice di gara tonale, ultimo giro, bandiera bianca significa, attenzione, ultimo giro. Stiamo concludendo questa categoria che vi ricordo è la F2 Runabout, vittoria di giornata, lo ricordiamo a Gaetano Costagliola, ma il titolo italiano va a Stefano Castronovo, campione italiano 2018, accostagliola, vince qui ad Anzio, ma arriva secondo, Giraudo in terza posizione, ora c'è la pubblicità, cari amici telespettatori, ma non toccate il telecomando perché lo spettacolo delle moto d'acqua qui da Anzio ritorna nella seconda parte di Finn Powerboat. A tra poco, non toccate il telecomando. Quando il gioco si fa duro e per le sfide di ogni giorno c'è Cetilar. Doppia forza al tuo massaggio. Il massaggio con il nuovo Cetilar aiuta a ridurre il dolore articolare. Vivi le bellezze del parco naturale dell'arcipelago della Maddalena con Palau Blue Tours. Partenze giornaliere in barca a vela, a tamarano e a motore. Da Palau per scoprire le meraviglie delle isole di Budelli, Spargi, Santa Maria e Razzoli. Per informazioni e prenotazioni, palaobluetours.com Marco, leader mondiale nella produzione di pompe elettroniche ed avvisatori acustici. GFN Gibellato In collaborazione con Toyo, Adrenaline Addicted Cetilar Marco In collaborazione con